No, allora Alfonso ti spiego. Il nostro matrimonio è sempre stato, appunto, diciamo, libero da entrambe le parti, ma è sempre stata una cosa decisa da entrambi, voluta da entrambi e soprattutto scelta insieme, no? E soprattutto lontano... Cioè, scusami, ti interrompo, perché voglio capire una volta per tutti. Scelta insieme. Questo vuol dire che ogni volta tu o Brad vi siete traditi a vicenda, vi siete prima chiamati e avete detto guarda, io vorrei tradirti con un altro o un'altra. No, 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 scelta insieme nel senso che è un divertimento condiviso insieme e che rimane comunque un divertimento, quindi una cosa di una notte, non una cosa continuativa. È questo che, secondo me, qui dentro a mio marito gli ha dato fastidio, perché quando è iniziata la cosa con Antonino, essendo che... cioè, ovviamente si va a convivere, a stare 24 ore su 24 assieme, sentendo determinate parole che io ho detto forse anche un po' troppo esagerate, facendo scenate di gelosia, lui si è preoccupato soprattutto del mio sentimento nei suoi confronti, ha pensato che magari stesse cambiando, stesse venendo meno, perché magari mi sta offendendo, innamorando di Antonino, no? Quindi tu mi stai dicendo che se tu avessi passato una notte d'amore con Antonino nella casa del grande fratello, one shot non sarebbe successo nulla? Guarda, io ti dico, secondo me, la cosa che lui dà fastidio, che poi ho capito, soprattutto stando qui dentro, è che una cosa è il nostro privato, una cosa è quando lo fai in modo pubblico, davanti a altri, e non in maniera riservata. Sicuramente questo non l'avevo messo più di tanto neanche in conto, perché non mi ero mai trovata in una situazione del genere, capito? Allora, diciamo... Allora, ecco, ecco, ecco.